Come potete assomigliarmi? 11 luglio 1978 Figli di Letti, la pace sia con voi! Sono la mamma vostra, qui presente, sempre desiderosa di fare di voi una mia copia perfetta. Voi sapete quanto godono le mamme di vedere che i loro figli hanno una certa somiglianza con loro. Ebbene, anch'io desidero che voi siate come me. Nelle vostre anime desidero vedere quella purezza e quello splendore che rallegra il padre. Nel vostro comportamento desidero vedere il mio modo di comportarmi col mio prossimo, che tanto rallegrava il cuore del mio figlio. E nella vostra vita spirituale desidero vedere quel continuo migliorarvi, che procura tanta gioia allo Spirito Santo, che vede fruttare in voi quei doni preziosi di grazia che egli va seminando, come li feci fruttare io corrispondendo al suo amore infinito. Ecco, figli, come potete assomigliarmi. Dovete rendervi sempre più cari alla Santissima Trinità, che non è indifferente alla vostra vita, ma che momento per momento vi segue e vi porta alla perfezione pur che siate docili ai Suoi richiami. Come potete agevolare l'opera del padre, del figlio e dello Spirito Santo, inserendovi sempre più intimamente nella vita di Gesù, così da vivere della sua vita. Disse un giorno Gesù, il vignaiolo è il padre ed io sono la vite, i rami che non producono frutto saranno tagliati e gettati a bruciare. Chi vive in me, inserito come un ramo nella vite, produce molto frutto. È tutto qui, figli. La vostra preoccupazione più grande deve essere questa, essere una cosa sola con Gesù, come Gesù fu ed è una cosa sola col padre, e come io fui una cosa sola col mio figlio. Soltanto così le vostre parole, le vostre azioni, i vostri desideri e le vostre intenzioni, vengono santificate e divinizzate. Che fa un bimbo nel seno materno? Vive della vita della mamma. Che fate voi quando siete inseriti nella vita del figlio di Dio? Vivete della sua vita. Che fate quando vivete di questa vita divina? Entrate nel mio grembo, ed io vi cresco come crebbi Gesù nei nove mesi che lo portai in me. Vi cresco e vi amo, vi confondo col mio Gesù. Vi amo come Lui, e tutti insieme formiamo quell'unità che forma le compiacenze della Santissima Trinità. È triste un bambino abbandonato. Un bambino che non conosce i propri genitori o che non sente il loro affetto, ha come una carenza morale e anche fisica, poiché il suo cuore e il suo corpo ne risentono. Ciò che colpisce l'uomo che non vuol sentire l'affetto di Dio, che rifiuta di credere alla sua bontà, e che vuol essere come un ramo secco poiché, non vivendo in grazia di Dio, la linfa divina non può circolare in lui, è molto più grave. Una situazione umana dolorosa può essere risolta e riparata. Al padre trascurato si può sostituire il patrigno, ad una madre indegna si può sostituirne una buona, ma colui che si rifiuta di avere Dio per padre e di essere da lui amato. Come potrà trovare chi lo sostituisce e gli procura tutti quei beni spirituali per cui possa salvare l'anima? Figli, che cos'è quella forza divina che vi attrae verso Dio? È la grazia santificante, senza la quale non è possibile venire in possesso del regno poiché, non possedendola, è impossibile produrre frutti di vita eterna. Quando, dopo una giornata di lavoro intenso, vi trovate alla sera a mani vuote? Quando, non possedendo la grazia, è come se aveste riposto i vostri frutti in un cesto senza fondo. Quando vi arricchite agli occhi di Dio? Quando, possedendo la grazia, ogni azione anche indifferente diventa oro purissimo e moneta preziosa. Figli, quando acquistate la mia somiglianza, così che io possa veramente riconoscere in voi dei figli? Quando quella grazia di cui io fui ripiena abbellisce anche voi? I vostri lineamenti fisici non hanno alcuna importanza e, se non sono perfetti, poco vi deve importare, poiché nel giorno della risurrezione finale, se sarete morti in grazia di Dio, diventeranno così belli e luminosi da meravigliare gli angeli. Ma i vostri lineamenti spirituali, le virtù che segneranno il vostro grado di santità, saranno molto importanti per me e per voi. Fin da questa vita questi lineamenti vi distinguono l'uno dall'altro e vi rendono cari ai miei occhi. Siete umili, caritatevoli, generosi? Siete casti, buoni, comprensivi, sereni? Siete amanti della povertà, del lavoro? Siete pronti alla preghiera, al perdono? Avete desideri infiniti di aiutare il prossimo, di dare gloria a Dio? Questo forma la mia caratteristica, e, man mano che voi acquistate queste virtù, diventate una mia copia ed io mi rallegro e vi benedico. Figli cari, vi ho aperto ancora una volta il cuore. Siate buoni, datemi tutto di voi, le vostre anime, le vostre lacrime, le vostre aspirazioni. Io trasformo tutto e vi do coraggio e forza. Arrivederci, figli! Ho visto qualcuno piangere durante il rosario. Io asciugo le lacrime e do la gioia. Cari, cari figli, sapeste quanto vi amo?